Professor Di Perri, proseguiamo il botta e risposta sulle tematiche scientifiche e anche delle curiosità che possono interessare i cittadini e i pazienti sul tema dei vaccini. Le faccio un'altra domanda sempre per la sua disponibilità. Qual è la situazione dell'andamento vaccinale in altri paesi come la Gran Bretagna, come Israele e cosa ha determinato come effetti sui contagi? Se può darci un'idea che può aiutare a capire appunto lo scenario futuro. Grazie. Sì, indubbiamente paesi come Israele e il Regno Unito rappresentano in questo momento un primato in termini di copertura vaccinale già raggiunta. Israele ha superato il 60% della popolazione totale, considerando che siamo già oltre il 70% di quella vaccinabile. Ovviamente dobbiamo escludere in questa fase tutta l'età pediatrica e l'età adolescenziale fino ai 18 anni. Quindi siamo oltre il 60% in Israele e quasi al 50% per quanto riguarda il Regno Unito. Vediamo poi che in ordine sparso, curiosamente, il terzo in termini di copertura vaccinale è il Cile e poi abbiamo gli Stati Uniti. L'Europa è un po' più bassa. Vediamo come paesi come Francia, Italia, Spagna, Germania si attestano tutti per una certa uniformità, intorno al 14% complessivo. Allora questo si traduce in che cosa? Si traduce nel fatto che effettivamente in Israele in particolare, che si presta anche per la ristretta regione geografica e il ristretto numero di abitanti, ma anche nel Regno Unito il crollo dei casi nuovi, una volta iniziata la campagna vaccinale e resa veloce come è stato fatto in questi paesi, il crollo è stato verticale. Cioè c'è un rendimento estremamente diretto, preciso, verificabile, senza ambiguità fra la misura di quanti vaccini sono stati somministrati e quello che è il crollo dei casi. Questo ci dà evidentemente un messaggio molto preciso circa l'opportunità di perseguire la campagna vaccinale in termini di intensità, di velocità, perché c'è un rendimento immediato e abbiamo visto anche dalle notizie di cronaca come in Israele ci sia una ripresa di vita che è praticamente quasi sovrapponibile a quella a cui eravamo abituati. Quindi diciamo in termini gerarchici quello che è stato il primato, quello che è il primato attuale di Israele e Regno Unito si è tradotto immediatamente in un calo verticale dei nuovi contagi e nel ripristino di condizioni diciamo più libere di vita collettiva, questo senza dubbio. Noi siamo in Italia, come abbiamo visto a livello di altri paesi come Spagna, Germania e la stessa Francia, abbiamo degli obiettivi iniziali raggiunti, ci siamo prefissi in questa campagna vaccinale di arrivare a 500 mila vaccinazioni al giorno, è chiaro che sappiamo in questo momento il limite è quello delle forniture, perché se andiamo a vedere qual è stato, qual è il rendimento attuale della nostra campagna di vaccinazione non possiamo diciamo che essere soddisfatti del fatto che il 90% delle dosi consegnate sono state già somministrate, il che vuol dire evidentemente a livello di distribuzione c'è un certo rendimento. Se andiamo a vedere le vaccinazioni regione per regione e quelle in rapporto alla popolazione, vediamo per esempio il Piemonte ha una copertura con la prima dose che supera il 20%, siamo aggiornati al 4 aprile al 21,24% con un 7,64% di persone che hanno ricevuto il ciclo completo, quindi questo in ordine al fatto che il 90% delle dosi sono state effettivamente somministrate.